buongiorno sono le 6 del mattino qua siamo per arrivare credo penso non lo in giamaica giusto ma che bello questo è ci sono appena svegliati non siamo gli unici buongiorno buongiorno e benvenuti in questo nuovo video oggi sarà una bella giornata guardati l'alba sono le 6 ovviamente noi forse per la fine della settimana quando è ora di tornare a casa vuole non avremo più jetlag no io farei anche la barba sennò mi abbronzo con la barba dopo faccio la barba diventa bianco amore stai meglio stamattina ieri eri rosso 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 ma ci stai di brutto bro stai di brutto bro no amore oggi protezione 70.000 guarda che siamo andati via appena in tempo e poi zio festa che c'è il cappotto no amore tu scherzi ma siamo andati via appena in tempo siamo andati via se stavi in altri dieci minuti addios però un idromassaggio alle 6 del mattino secondo me ci sta dentro di brutto amore non c'è nessuno qualcuno c'è un idro la mattina ci sta di brutto guarda che bella l'alba oggi abbiamo l'escursione che bello guarda che roba si vede terra neanche a pagare o sono siamo partiti abbiamo fatto tutto la giornata abbiamo fatto tutta la notte e ancora non siamo arrivati in oggi amore giamaica giamaica prima tappa giamaica adesso volendo possiamo andare a fare colazione si si e ma c'è quella easy eh facciamo una colazione easy easy vuol dire che non c'entri a mangiare no amore vediamo ma sicuramente ti mettono qualcosa scherzi ciao andiamo a vedere possiamo andare a farcela in piscina facciamo il vestagliotto in piscina ciao mamma eccoci qua sono le 6 del mattino qui da noi siamo in mare aperto guarda ora sarà a mezzogiorno le 11 mezzogiorno ecco mamma mi hai chiamato ma non posso risponderti guarda qua sotto ci abbiamo la piscinetta c'è nessuno in giro perché sono le 6 del mattino ciao mamma andiamo a far colazione stiamo provando le scarpe anti scivolo nell'acqua per andare nell'acqua andare rocce perché stamattina andiamo dove andiamo stamattina le cascate non mi ricordo più comunque servono adesso andiamo a far colazione no impossibile amore abbiamo preso apposta per non scarligare piscina vuota perché prestissimo sono le 6 e mezza morning eccoci con la nostra colazione marco ha preso il yogurt non si capisce come dentro il muesli non so cos'altro uova strapazzate ciambella di pane la banana e adesso il cornetto con la marmellata io sono andata più sul salato uova strapazzate un biustellino pane prosciutto e una piscina allora siamo quasi per attraccare questa giamaica adesso vediamo dovremmo attraccare una piscinata non c'è nessuno perché mi sa che oggi andiamo tutti a fare escursioni bello non so se arriva al porto o se si ferma un po' prima allora ciao raga noi stiamo aspettando di partire per l'escursione ci siamo incremati tutti belli lucidi siamo belli lucidi vede ci abbiamo messo la protezione 50 non ci può fregare nessuno no no se giro non ci pregano e niente stiamo aspettando le 9 e 20 9 e 25 perché abbiamo l'appuntamento alle 9 e 45 meglio partire prima e manca in 10 minuti e partiamo siamo già attrezzati i costumi e tutto quanto non so neanche io che cosa ci aspetterà oggi ci vediamo ma se noi andiamo poi quello che troviamo intanto noi andiamo poi si vedrà a dopo eccoci ragazzi arrivati al teatro vedi qui adesso c'è la schermata 25 sì noi siamo nel gruppo 28 non perdiamoci da casa perché sennò stiamo rovinando guarda che li hanno messo già gli orari 9 e 45 però vedi il gruppo 14 27 28 29 30 e 31 il primo al primo vedi 9 e 45 dance river falls infatti noi andiamo alle cascate guarda è già piena la slava guarda quanta gente che c'è tutti che fanno escursioni guarda su tre giorni che siamo qua e continuiamo a vedere facce nuove tre giorni? questo è il secondo ci sembra già di essere qui da una vita e mezza eppure continuiamo a vedere facce nuove sì c'è tantissima giunta ciao mamma mi sa che da voi è sera qua noi stiamo partendo per l'escursione aspettiamo il nostro gruppo guarda quanta gente che c'è stiamo aspettando il nostro gruppo che ci chiamano per partire per l'escursione guarda ciao mamma si va si segue la scia si va in escursione con belli carichi la nostra escursione durerà cinque ore vediamo guarda che bella la nave bellissima siamo qua stiamo aspettando il nostro gruppo c'è un casino esagerato non posso dire che c'è un casino esagerato amore amore allora che sei ragazzi? giamaica abbiamo patua e giamaica nostro violetto è la patua è parte della lingua inglese della nazionale DAP della schiavia africana che cambia in inglese alla lingua degli africani come mio amico qui che parla francese della cambiata in la lingua fare noi a pronunciare inglese in diverse maniere e la forma la patua è la stessa lingua che parla Bob Mali ma Bob canta inglese se è bene mondiale buon oggi allora prima tappa al negozietto per chi deve comprare le scarpe anti scivolo se volete un caffè 5 dollari americani 5 dollari americani qua ti prendi un caffè e 140 dollari giamaicani fanno un dollaro americano per cui vedi tu quanto ti costa un caffè qua non siamo ancora arrivati si guardano queste casette qua si guardano queste casette qua si guardano queste casette qua un po' niente a che vedere con Miami come si può vedere Miami è proprio un altro vedere ma anche rispetto a noi eh per carità vedi qua ci sono tutte queste casette qui io canto come americani molta vegetazione eccoci che cosa chiamano eh realmente eccoci siamo arrivati dance river pool la prima piovuta adesso c'è di nuovo allora prima piovuta è passato e tu ti deve essere indossare del costume dei bagnanti e ti poter lanciare così valore sulla pulmina allora siamo arrivati alle alla cascate alla come si dice qua amore dove vengono le parole la biglietteria sì all'entrata Il tempo non è bellissimo Fa caldissimo Però dai Si va Si va Non so nemmeno io due Ma si va Qua si scende Guarda che natura che c'è qua Aspetta fammi guardare Dino cammino E se non mi ammazzo Eccole lì le cascate Guarda Sono arrivati a questa spiaggia Non so quanto voi Ti ho detto tutto Qua siamo proprio alla deriva Si capisce Ti voglio far capire dove siamo Io non ho parole Di dove sto io Ma chi mi ci ha portato qua Chi Io sono morta ragazzi Devo arrivare là sopra Sono morta Ma guarda Dove cavolo Devo andare io Ma no Allora Siamo bagnati Fragghici Guardami Guardami Ma io ti ammazzo Guarda dove stiamo Da vicino al mondo Dobbiamo passare là sotto Mamma piove pure Ragazzi Io non ho parole No io non credevo di farcela Ti dica la verità Col mio peso Amore 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 non ci credevo nemmeno io Hai visto che abbiamo fatto bene a lasciarli in pulma Amore non ci credevo nemmeno io Questa è l'escursione fantastica che abbiamo scelto noi Ti faccio vedere come sono conciata Ti spaventi Cioè questi salgono ancora Io non so neanche come ho fatto a fare il primo pezzo Ti dico la verità Ma ma ti faccio vedere come sto conciata E' vero che nel frattempo piove Cioè Ci rendiamo conto S'ho bagnata Fragghici Cazzata nera Perché io ho pagato per farmi male Ci rendiamo conto? No io chiedo Questi se ci rendiamo conto E quelli ancora che salgono Salgono fino in cima No mi sono fermata a metà strada Sostanta mossa Mi ha ucciso Però divertente devo dire la verità Eccoci mamma bagnati Fragghici Sta diluviando Il pioce sta piovendo Abbiamo risalito la cascata Abbiamo risalito quelle cascate lì Fogli vedere qua dietro come sono Si le vede Mamma un casino Ciao E nel mentre piove Noi bagnati Fragghici Stiamo tornando a Pulma Io non ho parole Sotto la pioggia Sotto la pioggia Non ho più una parte di me asciutta Vabbè Eccoci a bordo ragazzi Io non ho parole veramente Non ho parole No ma l'aria condizionata la devi spegnere No ma l'aria condizionata la devi spegnere Che prendere tu le calamite Ma abbiamo raggio Allora ragazzi Allora raga noi stiamo tornando sulla nave Siamo cotti straccotti Qua c'è una specie di mercato C'è di tutto di più Guarda che bella sta zona Sta zona è veramente bellina Tantissimi negozietti Abbiamo già preso due cosine E adesso si torna su Pronto Noi lo sentiamo Lotto Passano a facere il karaoke Comunque noi in giro per la nave Allora Offertura mega galattica Offrono 5 prodotti a 40 dollari Ovvero 10 l'uno Altrimenti 10 dollari l'uno Adesso dobbiamo vedere Se qualcosa ci può interessare Ma così di prima acchietto Ti direi di no Ah giusto giusto così La borsetta Orologi Cappello Ah il cappello c'è Ecco Andiamo a veder di là Cappello Cappello Non ho capito dove sono quelli. Hai provato il cappello? No. Adesso andiamo a cena. Perché non abbiamo pranzato. Abbiamo fatto una tirata unica. Dopo la colazione. E adesso andiamo a cena. Vediamo cosa c'è di buono. Stasera abbiamo cozze. Perché cozze? Io ho preso pomodori, insalata, cetriali, cavolfiori, questa specie di pollo indiano, marco, lasagna e via. Buon appetito amore. Buon appetito. Com'è la lasagna? Adesso assaggiamo tutto. Amore, com'è il pollo? Veramente buono, vero? È strano. Non si capisce bene. Ma è veramente buono. È pollo indiano. Non so come l'hanno fatto, ma è veramente buono. Io devo finire ancora la mia verdurina. Le cozze stra buone sono andate giù che è una meraviglia. Buon raga, noi finiamo qua. Ci stiamo portando dell'anguria in camera da mangiare più tardi. e si va a dormire. No, a riposare. Allora, noi stiamo tornando in stanza. Speriamo di avervi fatto un po' di compagnia. Amore, adesso a sinistra. Sinistra. Speriamo di avervi fatto un po' di compagnia. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Di sa. Se oggi ci è successo veramente di tutto. Siamo cotti. Spoliciate se vi è piaciuto. Condividete. Scampanellate. E alla prossima. Ciao, 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 ciao.